Quinta vittoria consecutiva per il Mozzani che batte 3-0 il Chieti, risultato che potrebbe essere ancora più largo se Giacinti e compagni fossero più precise sotto porta. Al decimo Pellegrinelli si ritrova tu per tu con Vicenzi che para in due tempi e al diciassettesimo lancio distracchi per Giacinti che vince il duello di forza con Giada Di Camillo e prova a sorprendere il portiere uscito fuori dai pali ma la sfera si perde sul fondo. Passa appena un minuto e Giacinti fallisce il tapin vincente davanti a Vicenzi che respinge. La porta del Chieti sembra stregata per le locali che poco dopo colpiscono la traversa con stracchi servita da Ledri. Gli sforzi del Mozzani che vengono premiati al ventiquattresimo quando Locatelli lascia partire un gran tiro che non dà via di scampo all'estremo difensore. Era una partita che non abbiamo sottovalutato perché come diceva il mister dovevamo essere concentrate perché sapevamo che era un avversario ostico come è stato e dovevamo sfruttare tutte le occasioni che abbiamo avuto. Ovviamente dopo il mio gol abbiamo avuto tantissime occasioni che non abbiamo sfruttato però l'importante è portare a casa tre punti. Al trentasettesimo altra palla gol per Valentina Giacinti che sfrutta un errato retropassaggio di un avversario ma davanti a Vicenzi non inquadra lo specchio della porta. È un monologo delle locali che al quarantaduesimo si divorano un'altra occasione, questa volta con Scarpellini che non supera il portiere. Prima del riposo Vicenzi esce tempestivamente sui piedi di Pirone lanciata a rete. La sfera arriva a Giacinti che ancora una volta manca l'obiettivo. In campo c'è solo una squadra. Di sicuro il Chieti non deve fare punti con squadre come Mozzanica, Verona, Brescia e Fiorentino. Però giocarsela sì e uscire sempre a testa alta. Peccato perché potevamo fare meglio oggi. In avvio di ripreso il Mozzanica cerca il gol della tranquillità e lo sfiora al nono con una spettacolare rovesciata di Pirone che meriterebbe maggior fortuna. Al sessantaduesimo verticalizzazione per Giacinti che in diagonale impegna Vicenzi in una bella parata. Il 2-0 arriva al settantottesimo. Questa volta Valentina Giacinti trova il corridoio vincente sull'ottimo assist di Pirone. Il Chieti alle corde Giacinti potrebbe segnare la doppietta personale quando viene fermata in maniera fallosa in area dal portiere. Dal dischetto Vicenzi neutralizza il rigore di Giacinti. In pieno recupero arriva il gol del definitivo 3-0. Stracchi batte velocemente un calcio di punizione per Pirone che gira alle spalle del portiere avversario. Una partita come quella di oggi sicuramente anche a livello psicologico non era molto facile perché anche il Chieti aveva bisogno di punti e quindi ha giocato al massimo delle proprie potenzialità. Non abbiamo niente da obbiettare sul risultato perché è stata una vittoria del Mozzani abbastanza chiara sotto l'aspetto delle occasioni da gol e del risultato. Sicuramente la mia squadra ha fatto quello che ha potuto, sicuramente non ha avuto delle grosse occasioni da gol, però è stata in partita fino alla fine calcolando anche le precarie condizioni non di organico ma di fisiche che avevamo a disposizione in questo momento.